Sono il direttore regionale della CIA, Franco Belmonte. Oggi portiamo questo nostro impegno e questa nostra tour che stiamo facendo sul nocciolo anche a Soveria dove abbiamo trovato un areale assolutamente importante e favorevole alla coltivazione di questa pianta. Siamo qua insieme a Ferrero per presentare il progetto Italia che prevede una consistente implementazione di impianti di nocciolo in Italia per soppiantare, per sostituire le produzioni che provengono dall'estero e che non garantiscono la qualità che Ferrero va cercando. Noi oggi cercheremo di raccontare agli agricoltori che sono qua, che interverranno, quello che è necessario per poter arrivare a piantare questo nocciolo e gli racconteremo dalla viva voce dei tecnici che stanno seguendo l'intero percorso cosa è necessario poter fare. È evidente che non si tratta di una coltura che noi riteniamo debba essere impiantata in sostituzione di altre che insistono sul territorio. Riteniamo possa essere molto utile diversificare le produzioni aziendali e inserire questa coltura e quindi migliorare la performance e il reddito delle aziende che vi aderiscono. Speriamo di poter nel breve arrivare a costituire questa aggregazione per dare vita al progetto che abbiamo messo in piedi. Grazie. Grazie.